Nella provincia di Pesero Urbino si invecchia, ma si invecchia bene. Questo, se vogliamo, il sunto di quanto emerge nel rapporto sullo stato di salute della provincia presentato dall'Asur Marche Area Vasta 1 nel periodo 2015-2016. Un rapporto a 360 gradi che riguarda ogni aspetto sanitario e di prevenzione del territorio. Andamento demografico, popolazione, vaccinazione, infortuni sul lavoro, immigrazione e dipendenze patologiche. Diciamo che le indagini sullo stato di salute sono l'elemento fondamentale per capire quali sono i propri bisogni di una popolazione. Diciamo che la sanità pubblica necessita come elemento fondamentale proprio capire, attraverso i dati di tipo epidemiologico, descrittivo, quelli che sono gli aspetti sociali, economici e di salute della popolazione di un territorio. Noi con questo lavoro vogliamo dare di fatto uno strumento a quelli che sono i decisori della cosa pubblica, quindi le amministrazioni, la politica e quant'altro, degli strumenti per poter designare nel prossimo futuro delle strategie, delle strategie che possano essere di risposta a questi bisogni. Lo stato di salute è buono quindi, come ci conferma il dottor Agostini, anche se il saldo negativo tra nascite e decessi impone di ripensare ai modelli sanitari e la direzione che questi devono prendere per intercettare i bisogni e le necessità reali di questa società. Sulle cause dei decessi per malattie la fetta più grande riguarda il sistema cardiocircolatorio con il 40,6% seguito dai tumori con il 29,1%. Un dato in contotendenza a livello nazionale è quello sul fumo. In provincia ci sono meno fumatori, infatti sono scesi al 23% della popolazione. Per quanto riguarda l'immigrazione abbiamo un 8,2% di immigrazione territoriale in andamento standard che è anche sugli altri livelli regionali e nazionali. Sulla mortalità abbiamo una mortalità progressiva, cioè negli ultimi dieci anni il trend è praticamente costante all'interno di un range ottimale di mortalità. Sui tumori abbiamo alcune peculiarità sul livello nazionale, abbiamo una mortalità minore per il tumore del polmone, dello stomaco seguito successivamente dalla prostata con l'orretto e pancreas, queste sono le mortalità tumorali. Quello che rappresenta invece un segnale preoccupante è il dato sulle dipendenze. L'età d'ingresso è molto bassa, anche 13 anni, e l'uso precoce di alcol e droga tra gli adolescenti impone scelte promozionali sugli stili di vita e sulle scelte giuste da fare che arrivino dritto ai giovanissimi. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che il nostro piano regionale della prevenzione ha recepito, bisogna utilizzare dei metodi e delle strategie nuove. Non si va più a dire che fumare fa male, bere troppo fa male, ma dobbiamo lavorare proprio per migliorare il potenziale delle persone. Nel nostro territorio appunto la popolazione sta invecchiando e abbiamo poi, dal profilo di salute emerge, un certo abuso di alcol. Ecco, è importante lavorare secondo il piano regionale della prevenzione nelle scuole, attraverso per esempio l'educazione frappari, la peer education, quindi si formano i ragazzi che vadano poi a formare i loro coetanei.